Io mi chiamo Gualtiero Cecchin e avevo il mio futuro in tasca. E con profonda devozione che consegno nelle mani di Sua Eccellenza il Vescovo, il primo crocifisso interamente realizzato con materiali plastici riciclati. 300.000 copie o no? Qua in Veneto non molliamo mai. Non avrai i miei soldi, Gualtiero? Quando mi consegni? Colpifero che consegno, Cecchin? Il tuo ultimo segno era scoperto e la mamma è andata a stare da più pesante. Ho avuto qualche difficoltà però adesso non sono uno stronzo. E poi hai avuto il divorzio, gli alimenti, hai avuto anche Martino. Ti sembro un'indemoniata? Io sono Gualtiero Cecchin e avrò la mia rivincita. Che cosa ti serve? Una buona parola e si stanno avvicinando le nomine dei nuovi cardinali. Gualtiero ha onorato la parola data al Vescovo. Regalatemi un'emozione. Tu non riuscirai mai a rovinare il mio figlio. Io vengo da una famiglia influente. Sa cosa vuol dire? Che sappiamo cose. Sono un uomo! E te copo! Caso, te copo! Per colpa tua sono rimasto a terra. Puoi sempre finirci sotto. Perché mi hai abbandonato. Se vuol fare! La vita è una gabbia di leoni. E io sono il miglior domatore sulla piazza.